Presidente, oggi un incontro con i sindaci Galli e Parco circa il Giro d'Italia, l'illuminazione del Gran Sasso. Siamo arrivati ad un punto di incontro? Sì, c'è stato un atteggiamento costruttivo da tutte le parti. Ringrazio quindi tutti gli attori perché si conferma la volontà di lavorare insieme per valorizzare il territorio e sul fatto che il Parco, i Comuni e il Galla devono fare sinergia per valorizzare e far crescere al meglio questo preziosissimo patrimonio. L'arrivo del Giro d'Italia è una grande occasione. In tutta Italia i luoghi iconici delle sedi di tappa, di partenza o di arrivo vengono illuminati. Il Comune di Isola del Gran Sasso si farà carico di riaprire, riistruire la procedura secondo le corrette regole che gli sono state illustrate sia dagli uffici della Regione che dal Parco stesso. Quindi nel rispetto della normativa si riattiva la procedura. Siamo in tempo per arrivare a maggio alla possibilità di illuminare di rosa il paretone per il tempo e nel luogo che verrà meglio identificato dai tecnici qualificati che provvederanno a fare la valutazione di incidenza ambientale e io sono ottimista sul fatto che affidato nelle giuste mani e con il rispetto rigoroso della procedura e dei vincoli il Parco sarà messo nella condizione di poter esprimere un nulla osta a questa effettuazione e che una modesta illuminazione, modesta nella durata del tempo, non produca nessun danno irreversibile nessuna compromissione dell'equilibrio ambientale e naturalistico e consenta però di far girare per il mondo una cartolina inedita, inimitabile del Gran Sasso e attirare l'attenzione di milioni di potenziali visitatori e turisti che anche grazie al Giro d'Italia scopriranno le meraviglie di questo territorio.